E' troppo avventato, troppo pericoloso. Dove sei? Temo che la mia risposta non ti piacerà. Senti, lasciamo perdere. Non mi serve quello che sei. Porti soltanto guai. Abbiamo chiuso. Troppo tardi, Aiden. Indovina un po' dove sono. Anzi, ti mando il filmato. Cerca una TV e dà un'occhiata. La casa di Nicky. Che ci fai lì? Meglio se ti sbrighi, bello. La tua sorellina è in pericolo. Damien! Damien, che stai facendo? Giusto. Via dai piedi! Mi ha fregato. Mi sono lasciato fregare da quel figlio di puttana. Che cosa fa da Nicky? Non farà loro del male. Se gli tocca giuro che lo ammazza e questo lo sa. No, no, vuole solo attirarmi lì. Vuole che lavori con lui. Trovare chi ci ha attaccati. Vaffanculo. Devo farlo fuori. No, no, vuole solo attirarmi lì. 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 Aspettate lì, sto arrivando! Solo sei anni, che tragedia. Dove sono? Che spreco tutto questo, un tale spreco. Sai, la vera tragedia qui è che uno come te è circondato da cose così fragili. Questo rende fragile anche te. Dove? Non è così che funziona. Faresti meglio rispondere. Sì. Aiden! Nikki, dove sei? Nikki! Pensaci bene! Se fai cazzate, lei è morta. Non è questo che volevo! Ormai è fatta. Se mi avessi ascoltato, le cose sarebbero diverse. Dimmi dove sono. Dove sono? C'è solo Nikki. E ragazzino... Non so dove sia. Ora ti dico cosa succederà. Questo porta a un hard drive. Ti ho detto che c'era un altro hacker. Quello ti condurrà al suo computer. Prendilo e scoprirai chi ha ordinato l'attacco. Che cosa vuoi davvero? Non hai il diritto di farmi domande. Voglio quell'hard drive. Non devi sapere altro. Sarà il prezzo per riavere Nikki. Non pensarci troppo, Aiden. Voglio che mi aggiorni. In cambio potrei parlare con lei. Do ut dessa, amico. Farai una brutta fine. Forse, ma non fare il furbo. Non ci metto niente a uccidere la ragazza. A presto, socio. Dov'è, Jax? Damien non l'ha preso. Spero abbia il suo tablet. Eccolo. È sul treno. Merda lo stanno seguendo. Finalmente, ero preoccupata. All'hack del DedSec. Controlla i treni? I treni? Sì, ma... Mi serve subito. Come faccio? È bloccato. Aspetta. Ti mando una cosa. È un exploit day zero. I treni non lo riconosceranno. Ma funziona una volta sola. Mandamelo. Inviato. Che succede, Aiden? Non c'è tempo. Ci vediamo dopo al motel Hall, ok? Non farò mai in tempo. Ok, violerò il treno. Così farò allontanare Jackson. Controlla ogni carrozza e il ragazzino è qui. Il treno parte, merda! Andiamo alla prossima stazione. Vai, vai! Vai, vai! Chiamate gli altri! Ricevuto! L'auto è andata, inseguitelo! Il pezzo di merda è scappato! Lo strozzo è armato! Nulla di personale! so... Aspetta! Grazie a tutti. 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 Come va? Tutto bene? Andrebbe meglio se potessimo incontrarci. Sono in treno con Jex. Va bene. Sa dove Nikki lo accompagna di solito? Sì, ci vediamo lì. Dovrai essere coraggioso, capito? L'hanno detto quegli uomini a casa? Ehi, bravo, bravo Jex. Molto bene. Ehi, ciao tesoro. Che succede, signor Pierce? Dov'è Nikki? Siamo stati i giorni due. Ha voluto liberarsi dalle cose di Lena e credo che finalmente stia per dirgli addio. Va così male? Peggio. Doveva chiamarmi. Ora io e te lo prometto. Ora io e te andiamo a far danni. Ah, andiamo. A presto. Andiamo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.